Stagione concertistica 2014 della Chamber Music Trieste con un cartellone ricchissimo, una selezione delle top della cameristica italiana, dal quartetto Prometeo all'Ars Trio alle Trio De Bussi e l'omaggio al grande pianista Dario De Rosa a un anno dalla sua scomparsa nel segno della scuola cameristica del Trio di Trieste. Chamber Music poi diventa videoproduttore con il corto diretto dal regista Davide Del Degan dedicato al premio Trio di Trieste che nel 2014 celebra la sessione compositiva del concorso in vista dell'elezione del 2015. Le inaugurazioni sabato 18 gennaio 2014 con la Trieste d'assegna il 18 alle ore 18 al Palazzo del Governo in Piazza dell'Unità d'Italia ma poi anche la decima edizione del salotto cameristico della Chamber Music che si svolgerà dalle 28 aprile alle 26 maggio al Teatro Verdi nella Sala del Ridotto. E poi alla tredicesima edizione è arrivato il Festival Pianistico Giovani Interpreti e Grandi Maestri che si svolgerà sempre nella Sala del Ridotto del Verdi dalle 22 di settembre alle 20 ottobre 2014. La presentazione delle iniziative con il grande ringraziamento alla regione Frulli Venezia Giulia e all'assessore della cultura Gianni Torrenti per il sostegno che ha ridato un po' di ossigeno. Presente anche l'assessore comunale all'area educazione Antonella Grime in sostituzione dell'assente cronico, assessore della cultura di Trieste Miracco, assessore che è stato detto ha in difficoltà a livello di salute, e l'assessore Grime ha spiegato che, visto che anche per la Chamber Music il Comune di Trieste non ha potuto patrocinare la manifestazione, ha spiegato che questa settimana in Consiglio Comunale approderà la revisione del regolamento per questi tipi di attività in modo tale da poter far sì che lo stemma del Comune di Trieste ritorni. Per il momento una grande platea di pubblico ha sostenuto la presentazione della prossima stagione della Chamber Music.